Oggi andremo a vedere la muscolatura anteriore della gamba, inizieremo con il muscolo femorale, muscolo peroneo lungo, il tibiale anteriore e la muscolatura breve dell'annuce e rivedremo anche la muscolatura posteriore come il gastrocnemio e il muscolo soleo. Aggiungere il cuore della gamba e il cuore della gamba, inizieremo con il cuore della gamba e il cuore della gamba. Semoga Kita ikuti tadi semuanya Ok, insya Allah Assalamualaikum Latihan yang empat Mulai dengan Dari Di atas paha Langsung ke Di bawah sini Langsung ke Saya memperadakan Kebahagiaan murid saya Selanjutnya Pada mereka Jadi tiga Tapi kami Rapa buntung Yang ada Tetap Angkatan dia Sampai lapan Bisa Dikasih minyak Semuanya Supaya lebih Gampang Tangan Dengan Bulat Banyak Minyak Vista Diferente Noi Con Altri Io Dessun Prima Non Qua Ma Quasi Dikasih minyak Dikasih minyak Dikasih minyak Kalau kebawah ini Rasanya lebih Lebih enak Lebih ringan Di bulan kembali 5 menit 7 menit 10 menit Sampai lama Kakinya Pakannya Dikasih minyak Pista Pertama kali kita kebawah Sekarang kembali Ke atas Pertama kali kita kebawah 2 1 2 7 2 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 11 10 10 10 10 12 Ayo itu kita rela Dengan Menggunakan minyaknya Langsung dengan tekanan Jadi kita Jadi kita Ikut terapia Jangan Lalu 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 Kelo Yoke e mano a mano cominciano con la pressione in te e anche stira lento giugata per specie questa bella è una ammiglia è un calco, è un pagano, è una ammiglia lì via sole, soleo e lì è un calco, è un calco come era oggi? è un calco è un calco, è un calco è questa che è un calco e questa è la che è stata andata pressiva guarda 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 questa acqua mangiare anche sotto ma cosa da lontano una volta l'ambasano di una coppia se questo cioè non lo riaccompagni no da sola del tuo corpo perché mi senti vado da sola è un momento con la schiena con la bassina perché noi quando cambia è seppi spingi spingi spingi, spingi, spingi. Se non ci si cammini quindi mi siano vedere quindi più l'armi spingi, spingi la pratica anche il modo sono l'accompagna solo e poi a me ho fatto l'anca e si fa il giro quella quando già facciamo terapea almeno quella basse già 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 più cominciato un po' di stretching allungamento stretching importante non è perché basse solo piccolo cosa anche voi già sicuramente cosa dunque ma se ne fanno le basato anna pigi e samata cana di uguale di mestre e quindi per esempio guarda io c'ho l'organizzonti ma non c'è così non facciamo cioè io in questa parte è quasi in stranissare in guerra no il giro che a me facendo sempre male adesso come voi siamo ma io mi sanno ok è una ricca ma io non mi faccio male io questo qua ah, andiamo a fare un po' più no, ho la tua qua al momento ah ok oppure lato di là va bene cominciamo con questo eh, cominciamo con questo quello di... non li incontrate si, esatto mettilo qua e vedi là esatto facciamoli spazzati no, no, no giù, ma tu stai bene così lo siamo scritti no, no quindi prima è tutto questo giù eh prima è tutto giù poi è tutto giù e cavolo è tutto giù ok cosa abbiamo in casa? scusa un momento con questa è su, su verso giù verso giù ok, verso giù mentre cazzo da... quando non stiamo con la gamba... eh, ricordo non stiamo a faccia in giù diciamo invece tra l'estero verso giù e qua sotto sempre giù tutto verso giù tutto avendo di ci sono qui del No, sulla tua fascia, Mario, mi pare di non fare niente. Tutta legata. Eh, perché c'è le gocce massicce. A poco, vieni a vedere. La sinistra pensi qua. Se ti dite la destra più grande la sinistra. Anzi, la più è più forte. Eh, lo so, non mi sono a cuore. La qua, la giù. Eh, qua la tua. Puoi fare tutto? Sì. 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 così è meglio perché sento un po' di dolore e quindi mi dà un po' più bisogno un po' più lento adesso scusami tu bata di lato un po' più lunga, un po' più lunga, un po' più lunga metto l'olio di nuovo stiamo insieme insieme ma in Italia ci sono diverse i canini e i cacchi, lavo la mano e anche lavo i piedi ho capito, non ho capito, ma c'è roba tra di voi, non credo io diretta per lo più facile perché anche quando voi già pulito, trocate per sporco, più bello è la squadra e invece quando faccio l'olio sotto, vado giù o sopra? su, la posizione è fatta, devi comoda così ok, e devo fare le gambe, le vittà, le gambe e le vittà le vittà e le vittà vittà, le vittà usci ei sotto e le gambe li siamo GT attenzione 香港 Grazie. 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 Con due mani o su? No contrario a delle sende giù, esatto, 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 esatto. Si, uno, due, uno, due anche esatto, 1, 2, 1, 2. Esatto, contrario, esatto, 1, 2. Pina luce dai, su tibiale pina luce sempre che giari, esatto. Così con tutta la mano. Esatto. Ricordi quella manovra quando pancia sotto? Si. La stessa? La stessa però. Si. La stessa però con quella manovra. La stessa però con quella manovra. Si. Ricordi quella manovra quando pancia sotto vuoi con la manovra? La stessa? Esatto, esatto. Esatto. Tutto muscolo lì, c'è sotto tra muscoli, nervi e tendine. Com'è con la pressione qua? Va bene. Va bene? Un po' ripeto, li ulam volessi. Sempre con un po' oloce? Si. Poi ripeto un po' da sopra, giù sali, sali, sali e sende. In un ulam attasca va, attasca va, sempre crescita. ma più lungo tenere per la pressione per la pressione per il sentimento che sono le loro che sono le loro per la pressione bisogna dirasare le mani sono le mani e la otto esatto Adesso ho cominciato a sciogliere, a sciogliere, a sciogliere, a sciogliere, a sciogliere con la pressione. Adesso ho cominciato a sciogliere, a sciogliere, a sciogliere, a sciogliere, a sciogliere. A sciogliere. A sciogliere, a sciogliere, a sciogliere, a sciogliere. di qua e di là. Scambia. Non porti la gamba in tensione, non porti la gamba fino all'azione della tensione. Questa lascia anche se c'avano sotto. Di andrò fino a parte. Compagna e lascia. Anche questa, questa è la cosa. Questa cosa? Allora, quando lo dice un'errore di Sardegna? La roba uno shock al mezzo. Sì, poi a me fece pure davvero un po' di locazioni. Così la saluta. Perché spiega dopo, quando avrai più avanti. Adesso comincia a sciogli tutta l'articolazione. Quando non comincia adesso, con la scala, con le scala, con le scala, con le scala. Sì, anche qua. Sfingi, sfingi. Sì, perché questa si scioglie, diciamo, la schiena. Ma senza la mano qua, ve lo? Sì, sì, anche voi qua. Ma va. Ah. 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 Vgli vabbè, te la faccio vedere? Mi bisogno vedere. Sì. Ah, non sto facendo questo spinto no. No, questa bardata è sembra il Gesù no. non mi faccio più niente 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 prima lo accompagni e poi lascio vai adesso e scambia questa qua maronna mia, povero Mario sciso no, sciso no, lo hai giù facciamo un'altra coscia così di qua, di qua questa le faccio si, poi ci spiega a tu Mario, anche te, quale passione di più quali di meno no, questa le faccio, eh? si si devi spiegare a voi quali di meno, quali di più ok, questa compagna certo, dopo la passione, no? no, lei è migliorata la passione non ce l'ho tenuto, io ero troppo leggero ma io mi sto allenando, ho preso il lettino pure Giulia ma ce l'hai presi Giulia è una fine una volta, penso è la prima volta ma vai dai Giulia Giulia, mi dico qua vuoi fare due volte a me, eh? ma ce l'avamo più deciso si? non ce l'hai è con due maestri, ah che cazzo ma si non ce l'hai Giulia, se c'è un bravo muovo ai piedi ti è e poi io quando mi è peggiato la bohoy a macchina leate anche la manacca sta andando a manca 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 Ecco, bravo, anche di farmi vedere, sennò come si stringesse. Un pollice più sottile, esatto, questa. Eh, sulla tiglia. No, anche da sopra. Questa è qua. Perché con la mia sinistra. Questa è la tiglia, è lì, destra a sinistra, destra a sinistra. Anche qua c'è il fatto di vedere, assalto. Ah, sul tuo pollice qua, sulla tiglia. Sì, questa è la tiglia e questa è la tiglia. Questa è la tiglia. Allora almeno adesso Giulia Adele più spesa tra di voi, perché ci staggia le tini, scambio tra di voi. Sekarang siamo berdua, latihan abbanya berdua, antara Giulia Adele. Spero di spiegare anche Mario e Giulia troppo veloce, ma non più qualità. Un poco meno veloce. Esatto. 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 Non è importante, perché non è che questa parte qua, è sempre. C'è tutta la zona qui. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4 forse lo fa un po' più forte dai scuola bassi uno, due, uno, due 1, 2, 1, 2 nanti non troppo, dopo i libidi perché l'epidio di carta è bella scende giù fino a luce la cangia di garigna un delicato riparato penso il tempo molto riparato grazie 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 mai toccato paziente no è comoda te ma non dopo spiega io perché una partita vuole perché quando tu solo perdona pensava va bene poi abituata con maschio non va bene dopo intima noi dice c'è intime con paziente maista punto kita coba lebih dekat ke paziente kalau udah badan menempel ke tubuh paziente immagini non è buono un giorno dopo si giudica persona te c'è qualcosa nomba una porta noi si pariamo posizione comoda pensavano e comodo ma per loro comincia te pasti dia si pensatante cosa comincia te confusione so questa non c'è copiangate sekalian bisalah badan menyanggol per loro pasien merapat nanti pegila anak ada apa-apa saja nanti tidak enak domanda a delle giulia mario io mai corpo vicino tra paziente mani io questa cosa la faccio come dopo spiegate come si fa adesso perché basse no nanti sei di latino perché non c'è niente per la bigamba perché quando trova questa manovra dopo abituata abitudine abitudine normale già dietro magari un giorno il signore bloccata aiuta mio marito poi si si va bene va bene e poi cominciata davanti ma volevo capito che tante cose di lavoro tanto questa persona tu non sei mai davanti con noi chi sono io io quasi gentile educarsi io quando adesso disciplina poi un po non c'è sorriso questa perché educa quando già lavoro lavoro una volta tuo errore difficile ripete questo errore a te c'è immaginazione diversamente persone si parlano non lo sai lei è cominciata a lasciare questa manovra che bella questa non più con la nostra capacità pensato di altro non si sa mai perché tu che vuoi fare prima di fare questa manovra guarda tu seduta qua per lavorare appunto qua così per non far simulare la tua gamba dove lo blocco infatti è la tecnica possibile io faccio io dalle una carta quando muove questa questa con uno blocco eh si blocca così si blocca così anzi a te poi più piacerebbe che si blocca io si blocca così cominciata così cominciata questa non adatta e poi quando già così con questa sali sopra non si blocca così cominciata così cominciata così cominciata così cominciata questa la sensazione è diversa perché vuoi tranquillamente ma bene la masca questa che non è negativo positiva è diversa meno di più, però sono così cominciata così cominciata così cominciata così cominciata e questa io l'ho insegnata a voi quando sei maggiore quando è già così ora è difficile così lo spingi qui così quando ero una volta quello di un'abitudine un'abitudine difficile io non ce la faccio questa manovra invece adesso imparare giusta posizione e corretta io l'ho insegnata a voi 30 anni di mio lavoro io sono 30 tahun 10 tahun di Indonesia 40 tahun io sono beccati con tecnici in sala la mia esperienza è privata a voi che cosa è giusto o cosa non è giusto ma infatti è comodo si più facile perché tu in piedi si blocca anche meglio e certo perché ha messo da avere più fase il mese prima palline tu la fu difficile perché è incorpata la giusta 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 le faccio la giusta la giusta la giusta la giusta la giusta la giusta mai così mai così a mano perché è caduta qua visto io come ero prima guardami il video no mai che non ti attento mi faccio una disciplina non ti attiati con i bambini e non capisci dopo è caduta tutto, dopo è caduta pure a casa con gelata pastiglia persona quando hai domicilio madonna questo olio domani viene Roberta oh madonna ma devi pulirsi così invece quando sei attenta quando ti attiati sei messo con i pazienti io ho andato con i pazienti con la mia sangra ho aperto, mi scappo di là, la tenta, ho pogliato tutto tutto preparato la maglietta te la metti al momento e tu come fai quando hai domicilio? ma il bagno? sì, anche il bagno quella prima pulisci prima di dopo noi così la persona rispetta noi ma comunque bene, sono quelle piccole che non fitte sembra un attento, io vedete voi lasciate stare la persona così, noi no io sono così lasciate voi i pazienti così secondo ci quando ti atti aiutati edukasi di ta, che i ragazzi non abbiamo disiplino, non abbiamo disiplino, se stessi se si è disiplino, come si è insieme a me patruire, maaf, attenzione, quando si è attenta quando si è attenta, quando si è attenta, non è successo, non è successo, quando sempre la tenda quella piccola corsa agli un tipo in più questa valore di da valore io tanto i medici cantina i benedici ti dà l'uomo questa stazione di da questa che non si sapeva ma non mi è diversa perché sei vedi freddi giù come vedi freddi è perché sono l'azione impatti massaggiare bene i piedi di niente a che ma perché i biglietti non c'è quella sinistra però fare soltanto da l'alto a basso più continuativo sull'alto a basso così eh provoci a mettere da l'alto a basso a basso da così più lenta più si è meglio devi spingere come non facciamo in volemaggio no lo so però comunque così lì molto proviamo no se lei c'è una riflessione si e dopo quando così quando quasi con la carta torna indietro quindi si cambia anzi perché meglio se le sale se le sale quando tu sova 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 come si fa sembra noi apri che è portato sul sangue ma non è così perché noi dopo con la carta con la carta non è così si circolare su e giù più veloce ma potremmo giù e poi sali sopra e tra poco bava circolazione non è così perché per la carta stanti terapia non è così non è così quando tu arriva sempre non è così questa è diversa non è diversa soltanto noi alla fine più efficace perché non sempre la stessa direzione di l'animo facendo fastidio non c'è sensazione di cuore invece quando già con la carta questa carta non è così non è così non è così non è così piacere e fastidio piacere e fastidio e si stimola la questione della sangue e si aiuta la questione meglio non è sempre monotono quella l'importante è questa sale e sale e sale 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 va bene sempre questo questa è tutta una soprazione limpa sì 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 poi mano a mano ti spiegherò in più più passo avanti che significa voi domanda a me perché come mai io rispondo sempre motivazione come mangiare quando mangiare ho fatto un cammino e un cianco non ti sai che la stessa massima che è andata Nochi ma tu a te c'è qualcuno che ti fa i massaggi in passato? sia si miliare e miliare ma tu a te e c'è Gotta nulla io so appenasci io non vimo la cosa io sta pece io mi paw atta... si700 deg authè Adesso mi chiede se non mi chiede, ma io sono molto amici, perché io ho imparato da un tubo che non sono male Io imparato da mia papà dove sono punto tiger point, punto dolente, dove sono? Lì imparato, poi manipulazione con la mia mente si prova con i pazienti Quindi tu sei andato a cercare varie mostaggiatori? Noi, siamo troppo, per hoi, a direzione. Locatione tra i pazienti e questi ho imparato da stai con la mia mente? Poi c'è dentro ma metà fino a 5-5 metri Io molto di studiare a nelle città di Germano, Francia, doveni in capo di me, dauli in capo di me Da cui mi chiede sono il mio spazio di me, in capo di me dauli in capo di me, di capo di me, ma si è in capo di me. Perchele che ti sento, è in capo di me, però è in capo di me, faccio che non lo posso fare. allora non ripeteremo su di noi quando noi facciamo a pazienti allora questa non va bene non facciamo cioè tu vai a massaggiare con qualcuno e impara quali buoni quali di noi come studia maestro professore ha pure buono e non vuole pinta di niente siamo con la università d'avisamento l'attрафico che non c'è senza hai 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 quindi chanel se panggara prende scampi devi essere passato mi sono preso e l'ottimo più di più e più di più e più di più non fanno più e più di più male ha poco di riprendere scambi tra le volte scambio, scambio, scambio andiamo? a rubri? andiamo? sì un attimo ok perché non una di la una di qua vai sul lato di qua mario ora stiamo facciando la patria ora stiamo ripetendo la parte ora stiamo ripetendo la parte ora stiamo ripetendo la parte questa ha toccato qualcosa anche questo olio mai bagnato così perché bagnato questa mano sempre asciutta Roberta sempre asciutta mai bagnato perché bagnato tibolato e caduta a terra poi adesso questa una volta casa di Barone di Marchese vedrai una gocce mi chiamano più si visto qua bagnato tutto questo visto bagnato tutto qua ah vedi per un mobile di legno più a questa poi non chiamano più qual'è comodo con la c'è di là non è questa io se che tutto moro poi comodo non comodo cominciate a inserire perché nel campo dimenticato olio c'è olio d'olive usate voi olio d'olive mica olio d'olive con questa con questa di più pronto così in questa condizione ma se si abbrano segnalare un paio problema non è ah va bene perché Giulia è questa poi parla male poi con altri no fa carità quella Giulia ah sì la mia terra è spoccata tutto io il mio tappeto c'è un disastro così mamma mia se pensavo solo la buono e tecnica non è così reale non è così realtà è tutto complicato non pensavo no i miei valori 50 euro 60 euro e poi non vale niente però magari qualcuno ti dà 100 euro visto l'educata questa è disciplina precisto orario vengono come c'è stata una totalità da voi sempre ritardi ricordate questo ritardi non sono ritardi domani 5 minuti sempre anticipato faccio il disastro io mai io sono preciso il maestro lo sai sì io sempre preciso come facendo i mammoni datano per la tua diamante la parte di mammoni i mammoni sono più sudati perché tu giuro quello li studieranno anche tu a studio un giorno poi a studio quando le persone hanno precisso inutile perché continuate perché quello continuo sempre i tardi scusiamo i tardi il traffico sono più sudati e tu come fai se hai clienti che vengono rimasti una volta due volte terza volta cancellata ma tipo di che ritardi parli 15 minuti 15 minuti va bene poi dipende quando pioggia in realtà di uno due cominciate poi scusami dopo signore in realtà inizia alle 5 o 4 va bene 5 e mezzo vengono così lei non aspetta qua così non aspetta quella le 5 dici guarda siamo a pioggia tutto in Italia va bene per lei devi chiara devi semplice tu fai chiara onesta maestro lei sta sempre come si dice non tratta allora questa differenza questa a questa questa è giù si ho fatto una cosa ho fatto con il disco tu allora ho fatto l'organo faccio l'inniere di papà vengono le veste ok ecco 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 inizia le vese jack angri l'adele vese dite pake banta dite pake banta mulai rileks badan nge tegang tegang pake posisinya nge pake posisinya suan nge adapta nge retension invece pake rileks anche tu più facile adesso dite dite pake rileks Grazie a tutti O io prendo sopra la carta, guarda, così... Visto? Poi c'è l'altra qua, poi c'è un buco che vuoi mettere e poi c'è l'altra un buco Ah, dissi Qua, sopra qua, non muovo più E questo è importante insieme Quinta versione Perché da prima non c'è la tavola, va bene la mia, ti da basta Ti da 50 anni, 50 anni, 50 anni, 50 anni 50 anni Ma se voi già sapete dove andate Va bene così? Va bene così Cioè questa vale per tutti quanti che vedete il nostro video Ah, va bene così? Sì, sì, sì Grazie a tutti 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 il ritmo è iniziato Grazie. 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 Sì, mamma mia. Sì, mamma mia. Ora sta molto più rilassato. Sì, va bene. Sì. Facciamo un po' più profondo. Poi cerchiamo la prossima. Questa è la lesione. Facciamo un po' un letto, dietro e anche la gamba davanti. Sì. Bagian kelima nanti Lentap kaki Lunggung Terlungkup, langsung Yang kaki. Yang kaki depan. Sì, mamma mia. 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 Non è proprio il titolo, ma non è proprio il titolo. Non è proprio il titolo. È un titolo. No, tre o quattro titolo non ci vedo. Grazie. 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 Grazie a me, non lo dici no, forse come te, faccio sopra, a me come c'è fastidio. Faccio sopra? Come è? Che detto? Non lo capito. Che ha fatto? Faccio sopra? Questo è importante, qua si faccio sopra, seduta. Ma le scuole insegnano questa volta, a me l'hanno insegnato a bloccare la gamba. Mi sono insegnato. Orientale, occidentale, diversa. E certo. Noi molto rispetta la persona sotto. Mi segue? Non è voi che non rispetta, perché quando lo vuoi è normale il contatto. Mi segue? Per noi no, sappa. La persona è sappa. Sotto, assolenti. Allora quando vuoi, volevo rispettare anche da loro, anche noi rispetta loro. scambia. Quindi, come c'è noi, cominciamo questa, anche lei, questa, Rita. E' bella, questa bella per la in più. Non è sempre noi, cominciamo a... Tanti positivi e negativi. Invece quando noi lavora, lavora e basta. scambia 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 è una missione si tratta di un lavoro importante no? che hai ragione scambia si tratta di un polisi e si tratta di un polo la operate si tratta di un polis queste attenzioni scambia e l'uomo si tratta di un polis è finito posso fare una cosa per dire il canestro queste cose è un'altra cosa che è importante per noi ma nel tempo di vedere i video ah ok no io sono che non mi ero visto siamo troppo io sono uno che sembra scherzato state un po' con le bellezza serio non sto male vabbè eh no no si è difficile chiudere non è suonato si mi troppo è un apporto scordi che facciamo? smontiamo qua? si eh dobbiamo smontare così piegano così no basta piegare ok 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 Grazie. Grazie.